Eccomi, eccomi qua, mi dai la voce? Grazie. Bene, Mrs. Robinson, ve lo propone Michele, Francesco e Veronica, di Simon e Garfunkel e con la sonora del film Il Laureato, è una canzone dedicata alla protagonista femminile del film, la bellissima signora Robinson, con la quale il giovane laureato inizia una difficile storia da voi. Michele, Francesco e Veronica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.